Bene ragazzi ed eccomi tornato sono GhostFrax con un nuovissimo video sul mio canale Oggi come potete vedere da ora siamo su FIFA 15 E come vedete lì c'è la mia squadra, l'italiana E ho venduto un po' di giocatori e un po' di roba che avevo insomma di giocatori strani e gente strana Sono arrivato a 130.000 crediti circa E quindi diciamo che posso aprire qualche pacchetto di FIFA Dato che ho deciso che su FIFA 15 non shopperò crediti, non shopperò FIFA Points E soprattutto non sponsorizzerò siti di crediti ma non perché ci sia qualcosa di strano dietro Ma semplicemente perché non mi va, proprio non mi va di mettermi a fare tutte queste cose Non mi va proprio per niente E ho deciso appunto che farò così Cioè quando arriverò un po' di crediti farò un opening pack Sperando di trovare qualcuno che mi faccia fare un altro po' di crediti per fare altri opening pack O comunque uno squad builder o roba del genere Quindi possiamo subito iniziare a partire, a scartare pacchetti oro E ho fatto un calcolo, sono circa 17-18 ad aprire Quindi avremo subito il primo Con Eden Hazard sul pacchetto Vediamo se ci dà qualcosa, se ci dona qualcosa Skrtel Ah però c'è anche Jovetic Che is not bad Perché comunque ha buone statistiche Anche se non è tutto quanto questo granché Ok inoltre facciamo una cosa bella Cioè tutti quanti questi che troviamo Io li metto subito sulla lista trasferimenti Perché li vendo subito insomma Tutti quanti quelli che non mi servono Li metto a 250 Così che poi insomma Qualcuno se li prenderà pure Voglio dire Ok intanto qua Mandiamo tutto al club Scartiamo il resto E possiamo aprire il secondo pacchetto Con Howard Con il portiere La zaracinesca dell'Everton Vediamo un po' Eeeh Madonna mia Oxlade Chamberlain Scusate ma non l'avevo mai Non l'avevo mai sentito Lo so che mo' me menate Però Purtroppo è così E non l'avevo sentito Questo tipo strano Con il nome Impossibile Improponibile Ok Buono Anche un altro allenatore Che così mi aumenta la percentuale Del club Per i contratti Cazzi Le cose Cazzi Cazzi Altri cazzi Ok vai Il vecchio Il vecchio portierone Dell'Olanda Abbiamo trovato Che è pure oro Non raro Poraccio Però è fortino Silesen Peccato Almeno l'oro raro Poteva glielo Poteva glielo Poteva glielo Glielo potevano pure da Vediamo tanto qua Bistro Mazzano proprio Un cazzo Di nessuno Incredibile Cose brutte Succedono Però Add Questo tuo gioco Vabbè perché gioca Nella lega russa Quindi Probabilmente Non se lo incula Nessuno Però Vabbè Inviamo la lista Da sferimenti Che magari Lo vendo pure Anzi Sa mai Vada così Ancora con Howard Ancora il buon vecchio Howard Incredibile Ammigo Un cazzo I laramendi Vabbè I laramendi Non dovrebbe essere malvagio Però Non è vero Fa proprio schifo Non è che non è malvagio Ok Ciao I laramendi Fai cagare Ciao Fai schifo Te E tutto quelli Come te Mortacci De te Dai 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 Qualcosa di carino Guarin Guarin Che Vabbè Guarin Non è malvagio No Guarin Di realtà Non è per niente malvagio Ora che lo vedo meglio Ce lo teniamo Guarin Che non se sa mai E questi Li scartiamo brutalmente Tutti Ancora Capitano America Nel pacchetto Vediamo un po' Vediamo un po' Capitano America Ecco qua I olandesi Che hanno sempre meno Di 50 De velocità Incredibile Mazza La figa Con la maglietta L'ho scartata No L'ho mandata al club Vediamo un po' Ancora Capitano America Dai Qualcosa di carino Che cazzo Ci ho messo l'anni di Cristo Per fare messi crediti E poter fare un pack opening Per poter Così Con la speranza Di poter trovare qualcosa Nei pacchetti Non trovo mai nessuno Riccardo Ma chi cazzo sei Mortacci tua Mesci Mesci Col catarro Col catarro Col catarro Dammi qualcosa Dammi Che non sia per Rin Ma dammi qualcosa Che cazzo Maxwell L'ho trovato Trovato Maxwell Mortacci De Pippo Vaffanculo Ancora mesh Dammi Dammi qualcosa Di carino Non dico la leggenda Non dico l'if Non dico Però un giocatorino Un Neuer Ecco Neuer Sarebbe Sarebbe ottimo Me lo faccio bastare Neuer Giuro A me di questa Questa è proprio Figa di maglietta Quali c'ho io? Un mare ando attiva E sti gran cazzi Va Ok Va bene così Eee Tutti nel club Sì Te ti scarto Che devi morire adesso Ma proprio Now 52.000 crediti Sto senza Sto con le pezze al culo Senza un credito Senza una lira Vediamo un po' Crouch Crouch Ma che cazzo Sei Perché esisti Gago Mortacci Alaba Incredibile Dai Alaba Dai Alaba Un tuo membro del Bayern Qualcosa De carino Mortacci Bidic Madonna C'è L'83 Più schifoso Sulla faccia della terra Ma lo fai trovare Ma perché Perché Parolo Cioè ho trovato parolo Ecco i pacchetti Quelli da Lazio Fanno tutti schifo Incredibile È proprio incredibile Dai Eden Hazard Eden Hazard Porta bene Nei pacchetti Ecco qua Come se Non lo dovevo dire Mi devo stare zitto Cioè Verratti Verratti Che non è malvagio Però non è malvagio Dal vivo Perché Su FIFA Mi sa che fa abbastanza Cagare Carton Cazzo e mezzo 31.000 Crediti Mancano pochi pacchetti 5 pacchetti 4 pacchetti Vediamo un po' Higuain Higuain Manolas E che ce l'ho già Che me lo sbatto al cazzo Manolas Cioè Lo amo Ma me lo sbatto al cazzo Ecco qua Ho trovato Manolas La divisa Della costa d'Avorio Per Gervigno Allora Alaba Alaba Io mi fido di te Io Io sono un tuo grande ammiratore Un tuo fan Ok Per piace Que Que Ma chi cazzo è Chi è Que Que Non ha senso Non può Non può andare avanti così Sta storia Cioè Vaffanculo Io apro YouTube A destra e sinistra E trovo gente Che trova le leggende Yif Ronaldo Di Maria Cazzi Mazzi Inculi Frizzi No Io chi trovo Dicilobolo Bollote Kp Trovo Dicio Dicilobodish Dicilobodish Ma porca troia Ma mori Sblocco Un pacchetto oro gratis Tanto È uno di quei pacchetti oro Capito Quelli che te li sbatti al cazzo Perché Ecco Vediamo va Che manca oro premium Capito Ti dicono Uno raro E lo trovi Argentato Raro Infatti Guarda No Vabbè guarda Giusto grazie Fa forma fisica Ma Ma Veramente Un pacchetto Inutile Quanto è figa Sta maglia Del FC Lorraine Lorraine Mamma mia L'inglese Allora Pacchetti oro Ultimo pacchetto oro Da aprire Ragazzi Signore e signori È andata così Ultimo pacchetto oro Iguaino non voglio guardà Guarda non voglio guardà Non voglio guardà Otamendi Otamendi Chi cazzo sei Facciamo così Metti sul mercato trasferimenti Invia Ok Bene Bene Come al solito Mi ha detto male Non ho trovato Un cazzo di nessuno E niente Vabbè comunque A parte il tutto Spero che il video Vi sia piaciuto Nel caso vi esorto A lasciare Un mi piace Un commento Magari scrivendomi Che video vorreste vedere Come prossimo video Vi aspetto stasera Alle ore 20 Con il mini Fuck you time Da Cosfrax È tutto Bella Alla